Una delle canzoni di Jack Johnson, uno dei cantanti, dei interpreti più sensibili, a mio parere, verso il tema dell'ambiente insieme a Ben Harper. L'abbiamo ascoltato poco fa nella selezione musicale di Caffè Bluio che state ascoltando e guardando su RBI Radio e TV. Ci colleghiamo con Torino per andare nel dietro le quinte. Noi amiamo andare nel dietro le quinte dei festival e dei spettacoli teatrali, Teatro Ambiente, Earth Thing Festival 2023. Abbiamo con noi la curatrice Serena Bavo. Serena, buongiorno! Buongiorno, grazie dell'invito, grazie a tutti. Buongiorno. Dietro di ritrovarti qui a Caffè Bluio su RBI, Earth Thing Festival, abbiamo usato delle parole chiave, teatro e ambiente. Parole chiave per definire un progetto che quest'anno compie 12 edizioni, vero? Sì, esatto, siamo arrivati alla dodicesima edizione, siamo sopravvissuti fino a qua. Allora, se dovessimo spiegare in breve, io ho dato due parole chiave, Serena, teatro e ambiente. Perché è nato, insomma, avete pensato a questo festival? Da quale urgenza nasce di unire il teatro con l'ambiente? Lo immagino è abbastanza chiaro, però vorrei sottolinearlo con te, se mi permetti. Assolutamente sì, grazie per darmi l'opportunità di raccontare un po' la storia di Earth Thing Festival. Appunto, il festival nasce nel 2012 da un'esigenza personale di comunicazione. Come artisti sentivamo forte l'esigenza di trattare i temi della sostenibilità, che allora non erano così dibattuti, però per alcune persone più sensibili erano già molto presenti. Sostenibilità, soprattutto ambientale, ma che negli anni, soprattutto dal 2015, quando in qualche modo abbiamo studiato e sposato anche i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, trattiamo temi di sostenibilità sempre più integrata, quindi anche sociale, economica, ambientale, perché secondo noi è tutto legato, tutto correlato e quindi c'è bisogno davvero di un'azione collettiva per produrre un reale cambiamento. Serena, nell'immagine del festival, quelle che possiamo anche guardare sui vostri social, disponibili ad esempio su Facebook, su Instagram e sul vostro sito, ho visto una parola, un'altra parola chiave, in questo caso penso che sia un po' il titolo, comunque il filo conduttore di questa edizione 2023, Onda. Perché Onda? Allora, l'onda è un concetto che ci piace molto, siamo sempre stati legati in qualche modo all'acqua, e la circolarità. Quest'anno la dodicesima edizione, dopo le due edizioni passate, che in qualche modo sono state condizionate dal periodo post-Covid, che quindi hanno connotato in maniera importante anche tutta la programmazione e l'organizzazione, quindi dall'edizione 2020, fatta nei cortili delle case per raggiungere il pubblico, fino a quella del 21, che era una celebrazione all'essere visionari e al 22, quindi a una ripartenza, quest'anno abbiamo avuto questa visione di tornare ad essere itineranti, come era Erting Festival e alle origini, ma di celebrare anche le tante relazioni e collaborazioni che in questi anni siamo riusciti a fare. Quindi abbiamo pensato a un progetto molto più ampio, che partisse dalle montagne e potesse arrivare fino al mare, che idealmente segue il percorso che è un rifiuto abbandonato anche in un sentiero di montagna, attraverso il vento, l'acqua e i ruscelli, e possibilmente può arrivare fino al mare. Quindi l'onda è un'onda però positiva, di consapevolezza, di bellezza, che attraversa tre regioni e che porta appunto lo spettacolo dal vivo, la musica e le performance anche in luoghi non usuali, quindi anche in quei piccoli borghi dove normalmente i grandi eventi non arrivano. Quindi parliamo di un festival diffuso che coinvolge e abbraccia la città di Torino, ma non solo. Serena, il festival si tiene per tutto il mese di settembre, vero? Sì, siamo partiti il primo di settembre dalla Valle d'Aosta e concluderemo il 24 settembre a Genova. Bene, quindi come dicevi, dalle montagne al mare, benissimo, quindi avremo la possibilità anche di toccare non solo il Piemonte, ma anche Valle d'Aosta e Liguria. In particolare sul programma del festival, per andare all'attualità, più vicino insomma a quello che saranno i prossimi appuntamenti dell'Art Thing Festival, ho visto che domenica ci saranno due spettacoli, ben due spettacoli. Sì, esatto. Partiamo la mattina alle dieci e mezza con uno spettacolo di Casa Fulse, l'ultimo albero che verrà realizzato al Giardino delle Rose a Moncaglieri. Questo grazie a una delle tante collaborazioni che citavo prima, la collaborazione con l'Associazione Le Sillabe, che per quella giornata al Giardino delle Rose propone una giornata dedicata al silenzio. È uno spettacolo per tutti e tutte, quindi dai bambini più piccoli fino ai ragazzi, gli adulti, le famiglie, che racconta l'importanza del rapporto dell'essere umano con la natura e lo fa anche in una maniera giocosa e divertente perché ci saranno dei momenti di interazione con il pubblico. Il secondo spettacolo invece sarà la sera? Sì, alla sera, a tardo pomeriggio, siamo alle 19.30 puntualissimi, saremo al PAV, il Parco di Arte Vivente, che oltre ad essere un luogo importante per la città di Torino è anche un progetto molto interessante, unisce arte, natura, sostenibilità, ambiente. e lo faremo con una compagnia valdostana, Palino D, con uno spettacolo molto bello e soprattutto molto di attualità, che è perfino Le Montagne Più Alte, che racconta come in questi ultimi anni i ghiacciai, soprattutto della Valle d'Aosta, abbiano subito una riduzione drastica e drammatica. e lo faremo appunto con le parole di Verdiana Vono, che è l'autrice del testo dello spettacolo. Il teatro quindi si conferma un mezzo meraviglioso e stupendo, insomma, anche forte e potente per poter raccontare i temi che riguardano l'ambiente, la sostenibilità. Il teatro Serena da sempre pone domande e ci pone delle domande. Su quel palco alla fine ci siamo tutte e tutti noi, ho avuto questa sensazione. E a proposito di palco e di pubblico, so che ci sono delle iniziative che avete curato voi. Non parlo al plurale maestati, se non mi rivolgo al plurale maestati, so che c'è un'associazione dietro la figa e poi ti chiederò di ricordarla, Serena. Ecco, dicevo, ci sono anche delle attività, delle iniziative che vogliono coinvolgere il pubblico per rendere il progetto del festival sempre più partecipato, vero? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo pubblicato una campagna di crowdfunding che appunto non solo aiuta a sostenere il festival, a mantenerlo gratuito e accessibile per tutte e tutti ma coinvolge anche il pubblico e abbiamo pensato di appunto chiedere un supporto, un aiuto a quello che è il nostro pubblico che ci segue attraverso questa campagna di crowdfunding. Abbiamo un obiettivo che sono 5 mila euro, si può donare con Paypal, carta di credito oppure bonifico bancario, abbiamo pensato delle ricompense, tra l'altro ricompense che un po' raccontano anche il nostro progetto e la nostra visione. Abbiamo un'edizione limitata di un vino prodotto da un'azienda agricola di Asti, un vino biologico che ha un'etichetta dedicata al festival, abbiamo delle bombe di semi dentro le nostre shopper in cotone ecologico però la donazione può essere anche libera. Il nostro obiettivo è quello di 5 mila euro se lo raggiungiamo e lo superiamo abbiamo pensato di donare l'eccedenza dei contributi che potranno arrivare per restaurare, dare un aiuto concreto all'Associazione alle Ortiche. L'Associazione alle Ortiche ospiterà la parte genovese del festival e è un'associazione che si occupa di culture, di sostenibilità e di ambiente. Hanno riqualificato uno spazio importante nel cuore della città di Genova ma il loro spazio ultimamente nelle ultime settimane ha subito un danno ingentissimo a causa proprio di quei cambiamenti climatici di cui tanto si parla. Quindi abbiamo pensato che se superiamo il nostro obiettivo daremo un aiuto anche noi alle ragazze delle Ortiche per ripristinare la serra d'inverno. Serena, chi è che organizza il festival? Te l'ho chiesto prima, tu non stai parlando al plurale ma è stati, è vero? Come si chiama la realtà? Allora, l'Herting Festival è organizzato dall'Associazione Tecne APS che è un'associazione di promozione sociale che opera nel territorio di Torino ma in realtà anche con i progetti come il festival su tutto il territorio nazionale. Realizziamo progetti dove l'arte, la bellezza, la cultura vengono usati come motore per l'attivazione sociale e per la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita, i temi importanti. In chiusura, Serena, l'ultima domanda, l'ultima curiosità che ti chiedo riguarda il sito web, insomma dove possiamo trovare tutte le informazioni sul festival. Abbiamo parlato di tante iniziative tra queste appunto del crowdfunding. Per chi volesse insomma cliccare sulla campagna di crowdfunding e dare il proprio contributo, avere una ricompensa, come può fare e dove possiamo trovare il programma delle serate, delle iniziative che restano in programma per l'edizione 2023? Allora, il programma lo trovate ovviamente sul nostro sito che è www.artingfestival.eu, da lì tutti i link per prenotare gli spettacoli che ricordo sono tutti liberi ad accesso gratuito, poi chi vuole può effettuare una donazione, acquistare un nostro gadget e ovviamente su tutti i social, quelli più importanti, quindi Instagram, Facebook e via dicendo. Serena Bavo con noi per il Dietro le Quinte dell'Earthing Festival 2023. Vediamo ad esempio i prossimi due appuntamenti di domenica, di cui abbiamo parlato, domenica 17 settembre in quel di Torino. Grazie Serena per essere stata con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo, vive il lupo per l'Earthing Festival e tutte le altre attività della tua associazione. Grazie per essere stata con noi su RBA, ciao! Viva il lupo sempre, grazie mille, ciao a tutti! Ciao! Ciao! RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre.